Tra le delusioni del campionato non c'è solamente l'Avellino. La formazione bianco-verde infatti rischia seriamente di essere in buona compagnia, o meglio, lo è già. Sì, perché ai nastri di partenza non solo Catanzaro, Crotone e Pescara erano le più quotate, ma subito dopo Avellino, Foggia, Francavilla e Turris potevano dare filo da torcere, viste le rose a disposizione. Proprio la Turris, avversaria Domenica dei Lupi, paga lo scotto di un'estate tribolata. L'arrivo di Mr. Canzi dall'Olbi aveva fatto sperare in un caneo bis che aveva lasciato i corallini in direzione Padova. Invece una preseason poco convincente, l'addio di Canzi ancora prima di cominciare il torneo. L'arrivo all'ora di Pasquale Padalino e del suo 4-3-3 aveva fatto presagire una Turris sfacciata e divertente con la qualità degli esterni d'attacco Giannone e Leonetti e il fiuto del gol degli ex bianco-verdi Santaniello e Maniero che potevano sicuramente portare la Turris ad un ruolo da protagonista. Così non è stato, risultati scarsi e altro cambio al timone, via Padalino dentro Di Michele, un esordiente al quale ha affidato il compito di risalire la classifica. Quattro punti negli ultimi due match, vittoria a Messina e a Parigio deludente in casa contro la Fidelisandria. Domenica la Turris ospiterà l'Avellino per quello che sarà un altro derby campano. Gli ex di lusso passano a tre perché tra le file degli Irpini c'è Daniele Franco che tanto bene ha fatto in bianco-rosso ma che non è ancora riuscito ad esprimersi coi colori dell'Avellino. Il primo confronto della stagione in Coppa Italia si è risolto a favore dei bianco-verdi con un rigore di Ceccarelli. Domenica però a Liguori sarà certamente tutt'altra storia.